Con questa puntata andremo alla scoperta di una delle meraviglie del Gitto Antico, un monumentale tempio che, ramesse il grande, fece costruire nel profondo sud del suo impero, in una zona desertica e rocciosa, sulle rive del Nilo, Abu Simbel. Possiamo solo immaginare il giorno in cui il faraone e la sua amatissima sposa Nefertari arrivarono qui per l'inaugurazione del tempio dopo molti anni di lavori. Un fastoso corteo reale su barche, con sacerdoti, generali, musici, a prodone le vicinanze del tempio per la cerimonia di inaugurazione e per i festeggiamenti. Era esattamente il 1255 a.C., cioè più di 3.000 anni fa. Il tempio era stato scavato sul fianco di una collina e sulla facciata troneggiavano quattro immense statue di ramesse, alte quasi 20 metri, come il settimo piano di una casa. Un colpo d'occhio straordinario, un'immagine che ancora oggi colpisce chi sbarca qui e si trova improvvisamente di fronte a questa meraviglia. Il tempio di Abu Simbel ebbe uno strano destino. Con la fine dell'impero egizio rimase a lungo abbandonato e pian piano ricoperto dalla sabbia del deserto. Ma forse la cosa più straordinaria è capitata a questo tempio 50 anni fa. Infatti per costruire la grande diga di Aswan, che avrebbe prodotto energia elettrica per il moderno Egitto, il tempio di Abu Simbel è stato rimosso e spostato in un altro luogo più alto, perché altrimenti sarebbe stato sommerso dalle acque del lago artificiale. Venne tagliato in migliaia di blocchi con l'aiuto di esperti artigiani italiani di Carrara e Mazzano e con un'impresa unica nella storia dell'archeologia, rimontato come in un gioco di mattoncini Lego in una collocazione più sicura. Ma torniamo alla fine dell'anno 1816, quando Belzoni e sua moglie Sara iniziano la prima ricognizione di questa opera straordinaria. Sono passati 3.000 anni dal giorno dell'inaugurazione alla presenza del farone Ramesse e di sua moglie Nefertari e rimuovere tutta quella sabbia avrebbe richiesto un'imponente opera di scavo, che avrebbe messo a dura prova l'ingegnosità ben provata di Belzoni. Trascorsi alcuni giorni presso il tempio, Belzoni e Sara furono costretti a tornare al Cairo, avevano bisogno di uomini, avevano bisogno di denaro e di provviste per poter liberare l'ingresso del tempio dalla sabbia. Nel corso delle sue precedenti spedizioni in Egitto, Belzoni aveva già messo insieme molte antichità per il British Museum e il pezzo più importante era una magnifica testa di Ramesse che pesava 7 tonnellate. Ma seguiamo ora Giovanni Belzoni in questa nuova e straordinaria impresa. Grazie a tutti.